Che facciamo adesso? Libri! Che posto ragazzi! Quanti libri? E' bello Romano! C'è mani con noi! Ehi ragazzi, io ho capito tutto! Se avessi inventato io il libro, sarei diventato un miliardario! Perché? Come perché? Il 50% della popolazione mondiale legge! E cos'è questo? Io, essendo io l'inventore... Cosa ha perso lei? Un miliardario! Quello Teresa Parla! Sì, eh! Non mi riesco! Io ti avrei diventato più miliardario di te se avessi inventato il televisore! Il televisore? L'80% della popolazione mondiale usa il televisore! Non farei il 50%! L'80%! Ragazzi, io avrei voluto diventare la carta igienica! Sì! Onesto! Sì! 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 Sì!